Chioggia TV presenta Miss Aprile. Si chiama Claudia Fabri, studentessa di Chioggia. L'abbiamo seguita mentre fa shopping alla ricerca di un paio di occhiali. Il negozio scelto è Ottica Express nella sua rinnovata e bellissima sede di Chioggia, in centro storico. Ricordiamo infatti che Ottica Express ha anche una sede in viale mediterraneo a Sottomarina. La nostra Miss ha provato alcune sfiziose novità nel mondo dell'occhialeria. Da Ottica Express ci sono i marchi più importanti. Per lei Cartier, Dior, Tiffany & Co., Prada, Gucci, Chanel. Per lui invece Dolce & Gabbana, Ray-Ban e Dockley. Un occhiale tecnico sportivo indeformabile. Ma sentiamo Claudia Fabri come si presenta agli amici di Chioggia TV. Ciao, mi chiamo Claudia, ho 18 anni e frequento l'ultimo anno del liceo socio-psicopedagogico. Sono una ragazza molto istintiva, sono molto permalosa e sono una tipa abbastanza nervosetta. Non faccio sport, però mi piace molto il look sportivo. Vesto solitamente con un jeans e una maglietta molto semplice. L'ultimo libro che ho letto si intitola Mary Lee, di Signorini. Al cinema mi piace molto guardare i film horror, pieni di sangue. Sono una buona forchetta, mi piace moltissimo mangiare, soprattutto i dolci. E il mio piatto preferito sono gnocchi con panna e gorgonzola. Mi piace mangiare ma quello che cucinano gli altri, perché io non sono capace. Un'altra mia grande passione è Mary Lee Monroe. Mi piace moltissimo come donna, perché nonostante avesse avuto una vita molto difficile, aveva sempre un sorriso meraviglioso. Sono una ragazza a cui piace stare molto con gli amici, però allo stesso tempo bisogna ricavare ogni tanto degli spazi miei personali per cantare, mettere la musica ad alto volume, per estragnarmi un po' dal mondo. Il mio sogno nel cassetto è andare in America, però mia mamma non mi ci manda perché ha paura degli attentati. La presentazione di Miss Aprile è stata realizzata in collaborazione con Ottica Express, in corso del popolo a Chioggia e in viale mediterraneo a Sottomarina. Occhiali da sole e da vista, visita gratuita del test visivo con consegna rapida degli occhiali ed ancora lenti a contatto Chiba Vision, un team di esperti a vostra disposizione. Ottica Express, solo il meglio per lui e per lei.